Grazie, professor Dominique Salvatore, le chiedo prima un commento, poi andiamo anche sull'economia. Il fronte democratico si ricompatta, anche Bloomberg adesso scommette su Joe Biden. L'ex vicepresidente di Obama sarà probabilmente lui l'uomo forte contro Trump. Quindi tutti i suoi milioni che ha speso, inutili. Quindi il partito democratico è terrificato che Saunders diventasse il candidato democratico. Perché francamente negli Stati Uniti una persona così di sinistra non vincerebbe mai l'elezione. Quindi si ha un candidato, diceva Maria Luisa, che fa parte dell'establishment, certamente un moderato che ha ricevuto da poco anche l'endorsement di Bloomberg che, come ricordavamo, ha speso mezzo miliardo di dollari per la sua autocandidatura. Adesso invece appoggerà Joe Biden. È molto preoccupato però, professore Trump, dalla situazione economica, in particolare dal coronavirus. Il dato di ieri sera era di nove morti. C'è stato un intervento molto a sorpresa da parte della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve nel taglio dei tassi. Una situazione così, un taglio inaspettato, non si verificava dal 2008 addirittura. Quanta pressione c'è? Quindi questo taglio di mezzo punto è importante. Però, come lei ha detto, i mercati non hanno reagito. A volte, in precedenza, anche un quarto di punto di riduzione dei tassi faceva aumentare le borse. Invece, questa volta, anche con mezzo punto, non ha avuto nessun effetto perché le borse sanno che questo coronavirus, Covid-19, comporterà gravi problemi. Si immagini, anche il Surgeon General, che sarebbe l'equivalente del Ministro della Salute, in un certo modo ha detto non che diventerà una pandemia negli Stati Uniti, non se diventasse, ma quando diventerà. Quindi la situazione è molto preoccupante, non solo dal punto di vista della salute, ma anche dal punto di vista economico, perché le previsioni erano di una riduzione delle previsioni di crescita degli Stati Uniti, dell'Europa e di tutti i grandi paesi, di 15-20% riduzione. Per esempio, negli Stati Uniti quest'anno le previsioni erano di una crescita del 2%, adesso si va all'1,8%. In Europa, in precedenza, due mesi fa, le previsioni erano di una crescita di 1,3%, invece sarà non più di 1%. In Germania dall'1,1% al 0,8%, in Italia dal 0,5% al 0%. Quindi anche in Cina dal 6% al 5%, così anche in India. Ma queste le previsioni sono se il virus sarà eliminato, se il problema verrà alla fine, in questo trimestre. Ma professore, sempre rimanendo... Come anche ha detto il Ministro della Salute, si pensa che diventerà una pandemia anche negli Stati Uniti. È impossibile fermarlo. Ma la cosa che devo dire, incredibile, da questa parte dell'Atlantico, che dove è iniziato? In Italia. Perché non è iniziato in Spagna, in Inghilterra, in Francia e in Germania? È iniziato in Italia, dove ci sono più persone col virus. E anche il numero di morti. In Italia, su 2.500 casi di infettati dal virus, ci sono stati 79 morti in Corea con 4.000 persone infettate, nemmeno la metà di morti. Quindi iniziata in Italia, poi si è stesa attraverso l'Italia negli altri grandi paesi europei. E purtroppo questo lo sappiamo, professore. Il numero di infettati è altissimo in Italia e il numero di morti rispetto agli infettati è molto più alto, 4 volte di più che in Corea. Questo anche perché l'età media della popolazione italiana è certamente più alta che in altri paesi, quindi l'incidenza di letalità probabilmente è stata maggiore. Però, tornando al tema del virus, se lei crede che entrerà pesantemente nell'agenda della corsa alle presidenziali sia per i democratici che per Trump da qui alle prossime settimane? Esattamente. Trump ovviamente pensa e sperava che la crescita non diminuisse per questa causa. I democratici accusano Trump di aver non causato il virus ma di non essere stato attento. Ma è impossibile fermare questo virus perché la gestione si è infettati per 20 giorni prima che ci sia l'evidenza del virus. Quindi è difficile. Si dovrebbe fermare tutto come ha fatto la Cina in Y1 e anche sta cercando di fermare tutta la capitale, Pechino, da entrare e uscire da Pechino. È incredibile. Questo virus non è come SARS che anche se aveva una mortalità più alta era meno infettivo e infatti è finito in 5-6 mesi. Questo qui purtroppo non finirà. Come ho detto prima, c'è il pericolo che diventa una pandemia ed è impossibile fermare. Mi dica l'ultima cosa, professore. Che finora ha avuto meno casi dell'Europa. Però quando il Surgeon General, il Ministro della Salute, dice che sarà una pandemia e non si può dire quando, ma se no diventerà. E' a questo punto che le nazioni già erano con una bassa crescita. L'Italia adesso metterà la colpa al virus, ma stava vicino alla recessione. Così anche la Germania, così anche il Giappone. Quindi ci sarà una forte recessione. Non voglio essere come Nouriel Rubini che ha fatto una previsione che le borse scenderanno del 30-40% e Trump perderà le elezioni. Nouriel Rubini è diventato... La blocca un istante, professore. Forse ha anche un problema di ritorno audio. No, perfetto. Nouriel Rubini è diventato famoso facendo una previsione che poi si è avverata, per la verità, prima del 2008, dello scoppio della crisi finanziaria. Le chiedo veramente 30 secondi, me lo prometta, professore. L'economia americana avrà la resilienza come quella cinese, cioè la capacità di rialzarsi praticamente subito quando la situazione coronavirus dovesse in qualche modo attenuarsi? 30 secondi, professore. Quello sì, quello sì. Solo che questa è una recessione dove la riduzione dei tassi non aiuterà la crescita perché è la produzione. Sarebbe la produzione ridotta a causa di non poter ottenere le parti e i componenti dei prodotti. Quindi la crescita scenderà ma quando finirà questo virus la crescita dell'economia americana riprenderà rapidamente. Professor Dominic Salvatore, grazie. L'aspettiamo alla prossima occasione. Grazie per essere stato con noi in diretta da New York. è capito.